Beh, può essere stata una reazione di riflesso. Che è successo? Ok, questo è il dottor Haos. Haos, questa è cara. Sì, molto piacere. Che è successo? Quando abbiamo inserito gli aghi elettrodo, ha sussultato. Ehi, ha sussultato, hai sentito? Significa che sto meglio. Quanto è forte un sussulto? Più di un tic, meno di uno spasmo? Tu fumi? Sì, però non molto. Scusa, fai yoga e ancora fumi? So che è una cattiva abitudine, ma... La gente guarda se hai delle belle gambe, non se hai polmoni sani. Ma il fumo non causa... No, certo. Mi serviva un accendino. Haos! Oh mio Dio! Sembrava un caso tanto promettente. Io non sto fingendo. Ti sei mossa. È chiaro che ti puoi muovere. Buttate fuori questa pazza, mi ha già annoiato a morte. Io non sto fingendo. Il tuo modo non sono il secondo. Non sto fingendo. Nio. Non sto fingendo. Mi ha già già come uova. Il tuo modo non è iniziato. Va a disastro.